Benvenuti o bentornati nel mio canale YouTube questo è il secondo video riguardante la playlist LabVIEW in comunicazione seriale con Arduino in questo video vedremo semplicemente quali sono i blocchi che LabVIEW ci mette a disposizione per programmare e configurare la comunicazione tra i due dispositivi, tra il software LabVIEW e la nostra scheda Arduino vediamo quali sono questi blocchi in questa prima slide vedremo quali sono i blocchi di programmazione per la comunicazione seriale come dicevo nel primo video è importante questo protocollo, l'apertura della porta seriale la scrittura, la lettura e la chiusura ovviamente se non dobbiamo scrivere e leggere ma semplicemente scrivere o semplicemente leggere possiamo usare uno dei due blocchetti possiamo usarli tutti e due anche se non facciamo nessuna lettura per quanto riguarda questo obiettivo possiamo farlo vedete gli ultimi tre blocchi sono identici questi due sono diversi ma fondamentalmente ovviamente hanno la stessa finalità questo è il blocco di apertura che per adesso vediamo così poi lo vedremo nelle prossime slide in maniera più particolare c'è l'apertura della porta seriale per sapere con che cosa, con quale strumento, scheda stiamo comunicando poi c'è il risultato viene passato alla scrittura o alla lettura ed infine va alla chiusura della porta seriale alla fine della comunicazione invece di questo blocchetto possiamo utilizzare l'apertura ci mette a disposizione quest'altro blocchetto blocchetto che comunque ha la stessa finalità ma per così dire la struttura è sempre la stessa sono questi quattro blocchi questi quattro blocchi devono essere poi programmati così all'interno del nostro programma labview del nostro software labview bisogna utilizzare un ciclo while loop se non sapete esattamente cos'è un ciclo while loop nel mio canale playlist labview trovate il video relativo al concetto e alla spiegazione di questo ciclo while loop dove mettiamo all'interno del ciclo non solo la scrittura e la lettura o uno o entrambi fuori dal ciclo la chiusura e l'apertura questo è il secondo esempio comunque la struttura il modello di programmazione è sempre uguale passiamo adesso alla descrizione dei singoli componenti di questa nostra configurazione il visa open cioè l'apertura della nostra comunicazione con la porta seriale questo è il blocchetto che ci mette a disposizione labview con diversi ingressi, con le uscite di queste vediamo quali sono quelle che ci servono fondamentalmente e principalmente per la nostra configurazione non sto a descrivere tutto ciò che troviamo come possibilità di collegamento con il nostro blocchetto cosa fa in pratica questo blocchetto? non fa altro che aprire una sessione sul dispositivo specificato nella risorsa visa quindi qua sarà collegato il nostro dispositivo e aprirà il nostro dispositivo abbiamo anche un visa resource named out cos'è questo? non è altro che la copia dell'ingresso perché siccome poi questo blocchetto deve comunicare con il successivo il dato viene passato al successivo blocchetto abbiamo duplicate session che per quanto riguarda di default è una F cosa significa? se la sessione duplicata è impostata su false e viene aperta una sessione per la risorsa viene utilizzata la risorsa aperta se invece la switchiamo su true e c'è già una sessione aperta la prossima aperta sarà un'altra risorsa access mode specifica in che modo accedere al nostro dispositivo e questo può essere in tre modi ne ho specificati solo due zero quello di default è l'impostazione predefinita apre la sessione senza utilizzare un blocco esclusivo quello dopo o caricare informazioni di configurazione se mettiamo uno in access mode una costante uno significa che la stiamo utilizzando come exclusive lock blocco esclusivo e acquisisce un blocco esclusivo immediatamente all'apertura di una sessione se non è possibile acquisire un blocco la sessione viene chiusa e viene restituita un errore vediamo adesso gli altri blocchetti l'altro blocchetto per l'inizializzazione di configurazione della porta seriale si chiama visa configure serial port BI questo qui sono tutti i collegamenti che possiamo crearci che possiamo utilizzare sul nostro serial port BI cosa si fa? non fa altro che dello stesso lavoro del precedente inizializza la porta seriale specificata che troviamo su visa resource name visa resource name specifica la risorsa ad aprire poi abbiamo il baud rate che sarebbe un parente di Pippo baud e la velocità di trasmissione infatti essendo Pippo baud alla RAI è stato molti anni alla RAI è una trasmissione il valore predefinito è di 9600 baud poi un altro dato che ci interessa è il data bits e il numero di bit nei dati in entrata il valore dei bit è compreso tra 5 e 8 il valore di default predefinito è 8 questo è il blocchetto che serve a leggere i dati che provengono dalla porta seriale quindi che arrivano da Arduino o di un'altra struttura per quanto cosa fa il visa read legge il numero specificato di byte in arrivo e cosa fa? e restituisce questi dati sul read buffer li mette in un buffer e le va dove possono essere letti abbiamo anche qui il visa resource name che è la porta che è stata aperta l'informazione arriva dal visa dal visa open il byte count è il numero di byte che deve leggere il read buffer contiene i dati letti poi c'è il return count contiene il numero dei byte effettivamente letti e poi abbiamo il visa resource name out che non sarebbe altro che la copia dell'ingresso che sarà poi restituita al blocchetto successivo ecco qua siamo sul visa write quello per scrivere in questo caso nella porta seriale riceverà i dati che andranno a scrivere sulla porta seriale e quindi su arduino o su altri strumenti cosa fa? scrive i dati è del buffer di scrittura al dispositivo o all'interfaccia specificata anche qui abbiamo il visa resource name che è la nostra risorsa la nostra porta il nostro strumento che è stato che è in collegamento la nostra seriale che viene ovviamente dal blocchetto precedente la risorsa che deve aprire c'è il write buffer contiene i dati da scrivere mentre lì avevamo il read buffer qui abbiamo il write buffer il return count contiene il numero dei byte che sono stati effettivamente scritti poi abbiamo in questo caso lo diciamo è così per tutti quanti di blocchetti abbiamo visto che c'è un error in ed error out per quanto riguarda l'erro in lo scrive ci fa sapere che tipo di errore c'è nella comunicazione se ci sono degli errori se non riescono a comunicare se hanno problemi di antipatia o di mutismo selettivo dicono con lui non ci voglio parlare andiamo avanti dicevamo che alla fine bisogna chiudere il nostro collegamento quindi c'è visa close questo è il blocchettino cosa fa il visa close chiude la sessione del dispositivo ad un oggetto specificato dalla risorsa visa quale chiude? ovviamente chiude quello che è stato aperto che è stato letto che è stato scritto che ha fatto tutto il suo giro il suo maradan e qui viene chiuso qui troviamo solo due error in ed error out in questo caso error in no out opera unicamente in questa funzione nel senso la funzione chiude la sessione del dispositivo indipendentemente dal fatto che ci sia stato effettivamente un errore in un'operazione precedente per ogni sessione di visa che viene aperta dovremmo chiudere questa sessione quando abbiamo finito giustamente meglio che chiudiamo le porte che non si sa mai chi entra abbiamo il visa resource name che ovviamente è quello che è stato aperto che ha fatto tutti i passaggi dal write al read e bimboomba e arriva a questo punto abbiamo l'error in che descrive le condizioni dell'error che si verificano prima ma abbiamo detto anche chiude indipendentemente se ci sono gli errori o se non scena e error out contiene l'informazione sull'error passiamo all'ultima all'ultimo che può segnare ecco questo oggetto si trova sempre nel menu dell'instruments IO e si chiama visa bytes at serial port ed è questo strumentino ci fa sapere che per quanto riguarda i byte che può ricevere la porta è un unsigned di tipo long cioè sono senza segno quindi solo positivi da 0 a è una 32 bit un intero 32 bit quindi va da 0 a 4 miliardi 249 94 milioni eccetera eccetera il massimo numero che può che può leggere cosa fa ritorna il numero di byte che si trova che sono meglio che l'organe italiano disponibili sulla porta seriale nel buffer di input della porta seriale quando è che lo utilizziamo lo utilizziamo quando si devono leggere dei dati digitali che arrivano da da Arduino proveniente della schiera Arduino quindi in questo caso uso una visa serial vado a leggere il numero di byte anche se il dato è digitale anche se è semplicemente un pulsantino 0 1 ma va viene memorizzato in un byte e il dato viene passato al viene passato al vite vedete apertura chiusura della della nostra porta seriale passa al read passa al read ovviamente poi qua ci sarà il close e il numero di byte entra sul read sul dato bene con questa definizione ho finito questo video mi sembrava doveroso fare questo video prima di passare effettivamente agli esempi di comunicazione con la seriale senza altri strumenti o tools così da conoscere meglio questi componenti che potrete usare nei prossimi video vi ringrazio per la visione del video se ovviamente vi piace questo video se è di vostro gradimento mettete un like se non vi è piaciuto fatemelo sapere lo stesso perché si migliora solo quando si dicevano anche le critiche niente vi auguro una buona continuazione vi invito ad iscrivervi al canale tanto è gratis e alla prossima buona continuazione con la vostra navigazione su internet